mi scusi per andare a punta secca grazie scusi per andare a punta secca come? punta secca vai sotto girare e dire girare e dire vai avanti girare e dire sei lì grazie sì girare e dire scusi signora andare a punta secca punta secca se non deve andare di qua potete girare sì e dopo c'è la scena larga c'è le altre macchine e là ci si segnalazioni qualche scena di qua si mi scusi per andare a punta secca si deve ritornare indietro deve fare il giro capito? e poi e poi adesso vedi dove c'è l'incrocio lo vedi a sinistra guarda l'incrocio a sinistra o salga e deve andare giù di là e quello è no deve andare secca e poi trovo punta grazie per andare a punta secca secca scendi di qua dritto l'ultima strada in fondo sulla sinistra scendi per marina la prima dalla rotonda mi scusi signora lo sai dove si trova punta secca e poi giro di cosa no di qua dove è andata a destra sempre a destra trova il primo in grotto per marina e il secondo a sinistra per quella grazie signora ma per andare a punta breccetto punta breccetto deve andare deve prendere la strada per punta secca e poi c'è la segnaletica prima di arrivare a punta secca punta treccetto poi vado a marina no non c'è arrivare a marina tu gira e fai per punta secca e poi c'è anche prima di arrivare a punta secca c'è la detezione a punta breccetto grazie scusate siccome mi sono persa volevo andare a un minuto a punta breccetto a punta breccetto e allora a punta breccetto deve fare il giro della piazza poi dalla piazza ci sono i vigili che te lo spiegano bene va bene perché deve andare in alto frontale e qua sei a disagio devi fare il giro della piazza andare in piazza e poi a scendere e poi a punta breccetto punta secca punta breccetto grazie grazie grazie